Guida in stato de brezza, resistenza pubblico ufficiale, guida con patente scaduta. Non sono leggere le accuse pronunciate da un giudice contro Justin Bieber che ha passato la sua prima notte in cella prima di essere rilasciato su cauzione. Una cifra per lui simbolica, 2500 euro. Il cantante che non era mai finito in cella ma qualche problemino con la legge l'aveva già avuto era stato fermato nottetempo a Miami Beach mentre gareggiava guidando una Lamborghini presa a Nolo. L'altro guidatore a bordo di una Ferrari era Khalil Sharif, cantante R&B, anche egli fermato e rilasciato su cauzione. La bravata che ha anche un colpo pubblicitario può costare a Bieber fino a sei mesi di carcere ma con ogni probabilità se la caverà con molto meno.